Dalla speranza alla tragedia, in poco meno di tre settimane, è un dramma quello che ha colpito Salvatore Amato e Nuccia Consiglio, genitori della piccola Ginevra, appena 15 anni, deceduta al Policlinico di Messina lo scorso fine settimana. Una tragedia che è maturata dopo che la ragazzina era stata sottoposta a ossigenazione extracorporea a membrana. L'intervento è stato effettuato congiuntamente dall'equipe messinese e da quella di Taormina all'ospedale San Vincenzo, poi il rientro al Policlinico Peloritano e il decesso. Ginevra era inizialmente transitata dal San Marco di Catania per un'infezione alle vie respiratorie. La bambina presentava un grave quadro di insufficienza respiratoria causato da una severa infezione di influenza H1N1, un ceppo virale del virus dell'influenza A molto forte. Intubata in ventilazione meccanica, la piccola paziente è stata assistita in terapia intensiva pediatrica attraverso le più avanzate tecniche ventilatorie, dalla convenzionale all'oscillatoria ad alta frequenza, fino alla somministrazione inalatoria di ossido nitrico. A distanza di circa 36 ore dal ricovero, data la persistenza di un quadro polmonare ancora fortemente critico e refrattario a tutte le tecniche di ventilazione, i sanitari hanno deciso di richiedere l'ossigenazione extracorporea, una procedura eseguita dal team multidisciplinare del Centro di Cardiochirurgia e Cardionestesia del CCP di Taormina. L'ECMO è una tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, a cui si ricorre in condizioni di severa insufficienza respiratoria o cardiaca. Consente infatti di mettere a riposo cuore e polmoni e intervenire con un trattamento medico sul paziente. Sembrava che tutto fosse andato in linea con le aspettative dei medici, ma così purtroppo non è stato. Dopo il suo rientro al policlinico messinese, le condizioni di Ginevra si sono aggravate, fino al decesso. Adesso i genitori, assistiti dal legale Rosita Giardina, vogliono capire cosa abbia potuto generare la conseguenza atroce. Non escludono una sottovalutazione da parte dei sanitari messinesi, soprattutto dopo l'intervento effettuato a Tormina. Il legale della famiglia ha così insistito per gli accertamenti autoptici, che possano consentire di acquisire elementi utili e definire le cause della morte. L'autopsia è prevista tra lunedì e martedì. Nel frattempo i PM della procura di Messina hanno avviato tutte le verifiche del caso. L'ultimo saluto a Ginevra sarà dato mercoledì prossimo in città, con i funerali fissati nella chiesa di San Sebastiano.